È uno degli artisti più significativi dell'arte contemporanea italiana, Gino Marotta, ad organizzare la mostra lui dedicata all'associazione Musei. La mostra si chiama Eden Blue, è curata da Laura Cherubini e Giacinto di Pietrantonio, realizzata da Germana Galli e Antonella Mozzi. Da domani sarà visitabile a Palazzo dell'emiciclo, sostenuta dalla Fondazione Carispac, dal Consiglio regionale, da Ance e Farmanatura, con il patrocinio del Comune dell'Aquila. Il progetto intende riaccendere i riflettori sul lavoro di Gino Marotta, uno degli artisti contemporanei italiani più significativi, e la cui valorizzazione storico-critica, sta conoscendo una stagione importante. La mostra propone un corpus di opere iconiche e metacrilato blu, alberi e animali, che costituiscono un Eden ideale, con lo spettatore che si trova immerso e portato a riflettere sul mondo della natura e dell'industria. Parliamo degli anni 60, c'era proprio una tendenza dell'arte, d'avanguardia, a cercare materiali nuovi, da introdurre nel mondo dell'arte, sia materiali della natura e sia materiali industriali. In Marotta sceglie questo materiale perché collabora con la Montedison, che è l'industria chimica tra le più avanzate italiane e anche europee. E quindi è un materiale moderno che però lui declina in una figurazione antica, mettendo insieme tradizione e innovazione, che erano dei topics di quel momento. Molisiano di origine ha avuto Marotta un lungo e fecondo rapporto con l'Abruzzo e l'Accademia delle Belle Arti che ha diretto. C'è anche un ricordo metafisico di De Chirico, non ci dimentichiamo che Gino Marotta è un ragazzo nato a Campobasso, che è quello che allora era l'Abruzzo e Molise, che a 15 anni salta su un carro di patate per venire a Roma e conoscere il grande maestro De Chirico. Suona la porta, cercano di mandarlo via, lui resiste, alla fine De Chirico lo sente, lo fa entrare e gli dà anche mille lire che per allora era una cifra pazzesca. Quindi c'è anche la lezione metafisica di De Chirico, c'è la storia dell'arte, c'è il materiale nuovo, c'è il rapporto con l'impresa, con l'industria.